Una vasta coltivazione di canapa indiana composta da oltre 400 piante dell'altezza di circa un metro l'una. E' la scoperta stupefacente fatta dai finanzieri della compagnia di Barletta nelle campagne tra la città della Disfida e Canosa di Puglia. Ad attirare l'attenzione dei militari impegnati in un servizio di controllo lungo la strada provinciale 12 è stato l'intenso odore di marijuana proveniente da un terreno situato nei pressi dell'A14 ma di fatto raggiungibile solo a piedi. Così hanno deciso di dare un'occhiata arrivando sino ad un fondo agricolo di circa 500 metri quadri dove dominavano in contrastate le piante di canapa che nonostante una dimensione ancora abbastanza ridotta erano già ricche di infiorescenze dall'elevato principio attivo di THC. Sorprese dalla visita in attesa dei militari, quattro persone in tenta di irrigare la coltivazione hanno tentato la fuga ma sono state raggiunte e bloccate dai militari dopo un breve inseguimento a piedi. Si tratta di tre andresi di 35, 60 e 63 anni di un barlettano di 52 tutti volti noti alle forze dell'ordine, arrestati in fragranza e trasferiti in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria. Sequestrate a conclusione dell'operazione anche diverse attrezzature utilizzate dai coltivatori in erba per la cura delle piante.